Ciao, sono Paolo Vacci e con questo filmato vi voglio un po' far capire com'è la vita in caravan. Qui siamo davanti a una Weinsberg 390, una caravan piccola per quattro posti e leggera, quindi pratica a agganciare e muoversi. Questo non è l'ambiente da vacanza, è un ambiente di piazzale di vendita, però immaginatevi la roulotte in un campeggio, al mare o in montagna oppure in un agricampeggio. Veniamo al suo interno, vedete che c'è un bel matrimoniale e un matrimoniale qui che può essere a dinette. Se volete cliccate nella vostra destra in alto e vedrete la scheda di questa caravan con le sue caratteristiche. Come questa caravan ce ne abbiamo anche altre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina che sarete sempre aggiornati sui video miei di Tecnici di Andrea e del negozio di Nicoletta. Quando una famiglia si vuole avvicinare alla vita del turismo all'aria aperta, sia per due, quattro, cinque persone, avvicinarsi con una caravan nuova sotto i 20.000 euro è una bellissima esperienza e un esempio può essere questo. Una caravan che costa 17.500 circa su strada, la potete acquistare con un finanziamento a tasso zero di 10.000 euro con comodo e date di circa 220 euro al mese per 48 date. Pensate al calcolo della spesa e quindi vedrete che è una bellissima vacanza economica e veramente bella. Come sapete i costi di gestione della caravan sono presso a poco zero, sia per assicurazione che per bollo. Andare in campeggio vuol dire, se avete bambini, farli vivere la vita del campeggio con estrema libertà. Io ho cresciuto le mie figlie. E anche andare in agricampeggio, ora l'accoglienza è molto diffusa in Italia perché riuscite a capire le realtà del luogo che visitate. Perché parlare con l'agricoltore, mangiare i suoi prodotti locali è veramente una cosa interessante. Oppure stare al fresco, a leggervi un libro, andare in piscina, è una vacanza all'aria aperta. Molto molto bella, perché ci sono cresciuti, ci ho fatto crescere le mie figlie, ma vi garantisco che è una bellissima esperienza. Quindi se questo video vi è piaciuto, venite a trovarci perché poi l'emozione di entrare dentro questa caravan è importante, se vi emoziona, l'acquistate ai nostri migliori prezzi, ai grandi servizi caravan baci e mi raccomando cliccate mi piace. Ciao!